dire buonasera anche a te caro Dario Semperboni anche perché se vi chiedo se avete voglia di fare dei video di attesa della diretta quasi primo franco russo e senza sveglia grande franco spero che anche tu abbia finito la settimana di lavoro fortunatamente finita Dario Semperboni franco no mi sa che Bruna ti ha preseduto alla grande Dario infatti ha detto quasi franco esattamente esattamente questo e Emanuele mi raccontava una cosa fantastica di di oggi venerdì oddio quanti ne abbiamo quindici di marzo due mesi e mezzo dall'inizio dell'anno e mi pare no Lucia Chiapperini un buonasera eh di cuore anche a te che l'anno si è iniziato da due minuti e mezzo invece sono settantacinque giorni è una cosa a dir poco folle lo scorrimento del tempo Enrico Rostirolla venerdì buonasera carissimi Ema e Dani e contro informazione forza con i like super 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 franca toccacieli siamo a 16 mila iscritti condividete tutti siete dei tesori fantastici e mi diceva Emanuele grande Salvatore Mule un piacere averti che in questi minuti di attesa di ritardo quindi devo fare più di ritardo sto scherzando sono arrivate tantissime donazioni e mi riempie il cuore tutto questo affetto e tutto questo legame che c'è il capitalista misterioso che si dice Franco Russo Speed King non manca mai veramente generosità a profusione Andrea Ramponi adoro contro informazione del venerdì Andrea Ramponi grazie e io adoro la tua presenza perché siamo felicissimi di averti veterani di Somalia e ovviamente la gratitudine anche per le tue per le tue donazioni e anche ovviamente perché venerdì vero ho il piacere ci dice Lucia Chiapperini di comunicarvi che dopo diversi anni in cui non riuscivo ad iscrivermi al movimento non mi è ma non si è mai capito il problema tecnico sono riuscita grazie all'aiuto al nostro senatore Lanzi grande sono felicissimo Lucia felicissimo e ringrazio anche l'amico Gabriele Lanzi per per questo per questo supporto spero che non sia capitato a tante persone perché gli iscritti sono importanti anche se ogni tanto ci ricordiamo e ci si dovrebbe ricordare di farli votare Giulia Monetillo avete ascoltato che in Basilicata il candidato presidente che in Basilicata il candidato presidente mentre la stampa dice che ha ritirato la candidatura lui ha smentito sì c'è un po' di di casino cara Giulia Monetillo su questa su questa cosa qua speriamo si risolva ma soprattutto speriamo che porti un grande aiuto ai cittadini della Basilicata un ragione piccola ma straordinariamente bella affascinante piena di cultura e non solo fra Benv ben fra militavo in rifondazione prima del movimento e ho sempre sostenuto che gli svendi patria alla prodi andavano evitati bravo il nostro presidente a rispondere a tornare a mortazza bravissimo si Giuseppe e abbiamo fatto real ma ne parliamo allora iniziamo la puntata diretta mentre siamo centotrentotto collegati in diretta ci mettiamo a posto la maglia come fa Lebron James e andiamo a ringraziare i due ragazzi o ragazze che hanno fatto due donazioni fuori sacco Marsilia quarantanove tre giorni fa super sticker undici euro e novantanove grazie di cuore cara Marsilia quarantanove e il nostro amico sempre presente Domenico D'Amato anche lui tre giorni fa super sticker due euro un grande abbraccio caro Domenico se sei d'accordo Emanuele iniziamo la carrellata delle donazioni di oggi iniziando dai sostenitori di Giuseppe Conte guardiamo più tardi Danilo un saluto a tutti state lavorando immagino buon lavoro e grazie di esserci grande Roberto Mannucci un piacere essere qui con voi è un piacere per me per Emanuele per tutti noi averti non scordiamoci di mettere like ovviamente grazie perché ogni tanto me lo dimentico e anche di iscrivervi al canale non abbiamo nessun tipo di sponsor se no le adorazioni Giuseppe Farzariano sempre presente grazie di cuore dieci euro per contro informazione super prendo fiato eh fatto un intervento alla bocca e il fiato è quello che è con gli antibiotici poi mitico Andrea Ramponi non so come ringraziarti anzi sì lo so con tutto il cuore ti ringrazio Andrea Ramponi super sticker venti euro grazie di cuore Andrea Ramponi forza adoro la contro informazione veri sì caro Emma l'abbiamo visto noi adoriamo te nel nel serci Laura senza cognome 20 euro di donazione e sei meravigliosa Laura e ti adoriamo tutti scusate se molte volte non rispondo ma solo per scrivere ciao a tutti ci metto dieci minuti il tuo ciao a tutti per me vale come un libro di mille pagine ciao a tutti poche lettere ma credimi Laura che valgono oro colato ti ringrazio di cuore Laura senza cognome ti vogliamo bene da morire ciao a tutti è per me l'addensato del dell'affetto che che ti proviamo che ti che ti portiamo grazie Federico Ceruti Ron Ron non è Ron il nome Danilo super sticker 25 Ron dalla Romania che se non sbaglio caro Federico Ceruti siamo sempre felici di sapere che ci sono persone collegate dal dall'estero è molto molto bello no Federico spero che tu stia bene in Romania mi ricordo che alcune settimane fa ci dicesti come stavi lavorando stavi lavorando lì che guadagnavi di più mi pare di ricordare una roba di questo tipo che in Italia e se non sbaglio 25 Ron sono 10 euro una roba di questo tipo qualunque cosa sia grazie Gian Claudio Brufo 68 sei andato a sciare perché hai cambiato la fotografia comunque sia grazie di cuore super sticker 10 euro per controinformazione stasera è veramente fantastico eccolo qua hai fatto bene Emanuele a mettere tutto con un colore accesissimo perché speed king è la persona più generosa che abbia mai che abbia mai conosciuto speed king 250 euro anche stasera sei veramente fantastico spero di poter meritare ce la metto tutto ovviamente speed king e anche tutti gli altri di questa questa bellezza con che voi dimostrate questo attaccamento che voi dimostrate ti mando un abbraccio grandissimo speed king 2 non sono capitalista sta rispondendo a franco russo ma solo un iscritto che partecipa come può contro informazione e partecipi quel come può lo leverei partecipi alla grande caro o cara speed king 2 perché perché fai tanto e tanto e tanto veramente tanto quello quello che fai che ci permette comunque di sostenere il canale cosa che non è così scontata è così semplice va bene Emanuele possiamo iniziare con le chicche Teodora buona vita buon pomeriggio Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te cara Teodora e spero che la tua piccola stia crescendo bene anzi quanti anni adesso chi pensa siccome sto mangiando promettetemi che non mettete la foto chi pensa no non mi ricordo che ci sia Salvini guardo la 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 cosa ma no tra poco inizia la riunione del gruppo territoriale a lunedì va bene vai vai Sabrina Tavoloni bravissima Sabrina Tavoloni brava sono contento di questa partecipazione scusa Spini si scherzava nel video franco ti adoro spero che il lavoro vada tutto bene Federico c'era cinque va bene anche fosse un euro Federico ti voglio bene ugualmente grande Fabrizio Donini con la fotografia del nostro presidente Giuseppe Conte super sticker tre ore quarantanove grazie di cuore Fabrizio Donini Federico sempre ceruti ma non parliamo di questo di quei pseudo giornali che scrivevano Danilo Torinelli strategica del cinque stelle si Federico guarda cosa ha fatto il nostro caro Emanuele riduci magari il mio testone Emanuele di ingrandici se puoi informaticamente l'eccola qua perfetto vi ricordate sì vi ricorderete perché quasi tutti voi c'eravate la diretta di di lunedì dove abbiamo parlato di di risultati dell'Abruzzo mica dall'Abruzzo e a un certo punto si è fatto il discorso per cui molto spesso il curriculum soprattutto il curriculum professorale quello del di chi ha lavorato tanto sulla teoria che è molto importante ma in politica tendenzialmente è necessaria la pratica necessaria la contrattizzazione ed è necessaria anche la passione l'appassionare e non far addormentare come purtroppo molto spesso i i filosofi e i teorici alcuni intellettuali non tutti ovviamente c'è chi ha delle capacità straordinarie mi ricordo un rodotà che con le parole emozionava mi ricordo un De Masi che purtroppo abbiamo perso pochi mesi fa e che spiegava concetti straordinariamente complessi con una semplicità di parole con un'emotività straordinaria insomma ragazzi guardate qua m5s toninelli demolisce il campo largo ovviamente ho poi ho parlato del campo largo inteso come un aggregato di cui fa parte anche Renzi e Calenda cioè Renzi e Calenda ragazzi cioè Renzi e Calenda o criptonite per il movimento 5 stelle e non per il movimento 5 stelle della prima ora o dei talebani come toninelli degli intransigenti duri e puri come qualcuno mi definiva sto cazzo io sono pragmatico eh saluti dagli Stati Uniti grandissimo Sergio spero che vada tutto bene lì negli negli Stati Uniti magari anche un po' meglio dell'Italia perché quasi sta de merda proprio da tutti i punti di vista comunque sia demolisce il campo largo mi viene il volta stomaco ovviamente mi riferivo al al fatto che ci fosse dentro la criptonite per il movimento 5 stelle e poi guardate qua l'ideologo del movimento toninelli mi viene il vostro al stomaco si ribella Conte insulta Renzi e Calenda e ancora attivista pentastellato bello questo mi piace attivista pentastellato contro il campo largo ipotesi queste invece cara la sindaca va bene regionali toninelli bene allearsi con il PD mai più con Calenda e Renzi opposizione cavare toninelli da ridere campo largo no campo santo che manco mi ricordo di averlo detto mi viene da vomitare ed ancora toninelli si veste da stratega dopo il voto in abruzzo campo largo mi viene il volta stomaco mica solo toninelli campo largo non lo vogliamo tutti noi brava bruna marzullo brava speriamo che 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 ci sia se ci sarà io spero però ci controllano e cara bruna ci controllano e come ci controllano anche stasera e speriamo che laddove ci fosse qualche cosa da decidere si torni a far votare gli iscritti ragazzi si torni a far votare gli iscritti perché gli elettori del movimento 5 stelle storicamente non sono né di destra né di sinistra sono pretendono tanto controllano tanto sono giustamente dei rompicoglioni e se li metti in condizione di dover deglutire un boccone amaro o di annusare un po di puzza di cacca non vanno a votare e quindi è meglio soli che mal accompagnati però di nuovo che avanza michele boscolo con la tua cagnolina o cagnolino il nuovo alleato 5 stelle grande michele ti adoro perché perché mi ci fa aprire il capitolo prodi ragazzi il capitolo prodi vogliamo un campo di 5 stelle ugo zora ti voglio bene cazzo esattamente un campo di 5 stelle aperto magari non al pd che tanto è fatto ancora dei franceschini dei prodi dei d'alema e dei bettini e degli orlando e vorca trote di quella gente qua c'è l'ashlane è il brand del momento per attirare voti per il comitato d'affari elettorali chiamato partito democratico speriamo che il movimento aiuti anche alla nascita di un movimento come vicino al nostro fatto di giovani che arrivano dalle scuole dalle difficoltà della vita quotidiana dalla strada dalle fatiche incazzati neri ma onesti capaci con una voglia di fare di ribaltare tutto con questo noi dobbiamo fare il campo bello non il campo desto ca detto questo abbiamo fatto stamattina presto io e ma uno short dopo l'uscita meravigliosa di prodi che dice a il nostro presidente conte se volete vincere mettetevi d'accordo se volete perdere continuate così e in questo se volete vincere mettetevi d'accordo lui intendeva mettete tutti assieme wow datemi due minuti wow aspetta giovane ti prego stai lì se no mi perdo quindi lui vorrebbe perché è meraviglioso lo adoro vi ricordate grillo quando andò a portare a prodi le 350 mila firme di legge di iniziativa popolare del parlamento pulito e uscì dopo l'incontro e disse che non so se lo stava ascoltando o se stava dormendo sì stava dormendo però di quello che oggi vive di rendita perché è quello che dice che è vero per l'amor del cielo che miracolosamente lo aggiungo io ha battuto berlusconi ma fondamentalmente un cittadino attivo serio come sono io come siete voi a me del fatto che abbia battuto berlusconi non mi frega niente la domanda che si dovrebbe fare a prodi quando è stato a capo dell'ulivo quando è stato a capo del governo è che minchi hai fatto cosa hai cambiato in meglio cosa hai migliorato dove hai messo mani però di te lo dico io dove ha messo mani liri smantellata privatizzato tutto stava privatizzando ha privatizzato le autostrade io lo so qualcosa ha privatizzato le autostrade c'era oddio il magistrato non mi ricordo neanche più il nome quello di mani pulite di prego datemi una mano a edoardo poppi smantellato liri poi lui indagato in tele con serbia non dimentico sempre incontro informazione grazie edoardo poppi non dimentichi bene oddio come si chiamava il magistrato che ha fatto politica d'italia dei valori mamma mia ragazzi che andava in televisione quando era ministro a sputtanarmi su tutti i fronti vabbè di pietro grazie tiziano lo amo talmente tanto che figuratevi che io ho votato anche di pietro per farti capire prima che nascesse il movimento detto questo sembra sonnecchiare ma è un diavoletto sì ma fosse un diavoletto franco non sarebbe neanche male grande laura che ridi cosa su che cose ti senti ho fatto ridere cara laura senza cognome ma ma proprio di quello che ha privatizzato per dire le autostrade ha svenduto gioielli di stato è sotto di pietro ministro dei trasporti che è stata fatta la legge per la privatizzazione delle autostrade che completava un'iniziativa precedente di d'alema ha proprio fatto la legge per la privatizzazione delle autostrade che poi ha terminato berlusconi nel 2008 appena si è insediato mi pare col berlusconi 4 l'età si sente sol gix i politici italiani più invecchiano più pensano solo alle strategie politiche anni 80 e 90 hai ragione è da incorniciare il tuo commento perché lui pensa ancora all'ulivo vi ricordate l'ulivo io lavoravo con un deficiente giovane diciamo e che potessi seguire partivo da mattina alla 6 tornavo la sera perfetto ma comunque lui vorrebbe mettere insieme cose completamente diverse perché tanto per questi politici di professione le idee progetti risultati concreti miglioramento concreto di strade ponte e diritti pover della lotta alla povertà della sanità che mi ogni frega un cazzo interessa mettere insieme una roba in un agglomerato dagli un bel nome io avevo dato ulivo questi si odiavano che si odiavano di più tra di loro che che quanto diassero berlusconi ma si erano messi insieme avevano messo insieme i voti e avevano battuto berlusconi ma la domanda è ma che cazzo avete fatto poi quando eravate al governo avete privatizzato tutto avete fatto i disastri no l'abbiamo detto i disastri non loretta citerei a una certa età alcune persone dovrebbero goderci la pensione invece di inciucciare ancora e termina esattamente così cara loretta come nella nello short che ha che ha messo insieme benissimo Emanuele e poi per una marzulla è quella dell'euro ma non tanto dell'euro in sé cioè del dell'ingresso dell'italia nell'eurozona ma quanto nella valutazione di quei circa duemila lire a euro che ci ha fatto raddoppiare dall'oggi al domani il costo della vita ma cioè nel senso ma siamo folli cioè doveva meno il 30 40 per cento in meno ci ha devastati Teodora Buonavita ieri mentre Prodi parlava avrei voluto scrivere rincoglionito ma non l'ho scritto Teodora Buonavita ho visto una fotografia in cui il nostro Giuseppe lo 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 mi stringeva la mano sorridente amorevole spero che stesse guardando qualcuno d'altro è bravo Enrico Rostirolla vorrebbe quel campo largo che Prodi consiglia Conte di fare è esattamente definibile come un olivo appassito e già l'olivo di per sé ragazzi miei oddio ce ne raccomandi e se lo dovessero cercare di fare oggi è appassito la mortadella scaduta grande devo gozzare vero e Beppe lo chiamava mortadella mi pare Mauro Emiliani ciao Danilo una volta un campo largo lo chiamavano orgia politica lo chiamavamo noi bravissimo non lo chiamavano letto male bravo Mauro lo chiamavamo noi bravo Mauro Emiliani da incorniciare il tuo commento da incorniciare era una mucchiata politica di merda funzionale solo a raccattare voti cercando di far credere alla gente comunque che si era rimasti diversi e poi aveva l'unico obiettivo del vincere qualche poltrona ed accaparrarsi qualche zona di potere e poi dopo forse ci si metteva al tavolo per capire se si riusciva anche a realizzare qualche risultato ma era secondario si andava bene si faceva anche questa seconda fase perché l'obiettivo della politica professionista è vincere la poltrona vinta la poltrona l'unica lavoro da fare è raddoppiarla triplicarla come il pane i pesci di Gesù Cristo no? Dario sempre boni ma la memoria dei politici è come quella dei cricetti grande come dimenticare quello che hanno detto e fatto Renzi e Calenda ma vi rendete conto di quello che ha detto e hanno fatto bravo detto e fatto detto e fatto grandissimo Giuliano Bevacqua ciao Danilo Dema arrivato treno soppresso mi dispiace non mi ricordo Giuliano perdonami tanto cos'è trenord trenord se il treno è soppresso è uno dei tanti e veramente è tutto il mio cordoglio la mia vicinanza per le sofferenze per le sofferenze oddio scusate ho girato lo schermo ci ho picchiato contro Lucia Chiapperini compromessi sono necessari ma non a ribasso tradotto con PD Slane è necessario con Renzi e Calenda no da soli avremo destre ed è un pericolo Lucia Chiapperini è una chiave di lettura assolutamente condivisibile quando però ci sono questi allora Calende Renzi non è non sono neanche da considerare a Roma scusami Giuliano non sono neanche da da considerare il PD si può ragionare però ragazzi io ve lo dico sempre l'ho vissuto in prima persona l'ho toccato con mano l'ho sentito in tutti i modi l'ha bloccato l'ho l'ho il treno tiziano continui ti adoro cazzo ci dice Giuliano bevacqua mi avete fatto perdere il filo siete dei bastardi cosa stavo dicendo aiutami Emanuele stavo dicendo sì mi sono ricordato dai che le sinapse ogni tanto ci sono ancora è il contratto di governo che cambia tutto io ve lo ripeterò e lo ripeterò fino alla morte non in tv ma tutte le persone che incontro al bar che mi rompono i coglioni dicono ci avete tradito il mando affanculo gli dico ditemi dove abbiamo tradito il reddito lo chiedevamo e lo proponevamo in campagna elettorale siamo stati votati abbiamo vinto l'elezione l'abbiamo fatto lo spazzacorrotto l'abbiamo fatta i cantieri li abbiamo conclusi va affanculo te e la tua ideologia ma le abbiamo ottenuti quando abbiamo fatto un contratto di governo vincolante non abbiamo ottenuto più niente quando al contratto di governo abbiamo fatto il programmino elettorale dei sogni fatto di avverbi di aggettivi e di astratezza totale che è una presa per il culo semantica esattamente così abbiamo detto del short si l'abbiamo l'abbiamo detto caruccio e da girare da far girare immagino che lo riprendono i giornali che mi rompono il cazzo ancora che dicano che che vado contro conte eccetera eccetera domani battista raffo il pd troppo ipocrisia condivido pienamente e io penso che l'unica soluzione sia metodologica vogliamo fare un'alleanza strutturale benissimo si firma un contratto di governo vediamo se il partito democratico firma determinate cose lo sappiamo perfettamente che nel contratto di governo ci sono dei compromessi da fare ma ci sono delle linee rosse che purtroppo ad esempio nel governo draghi il movimento 5 stelle non aveva tracciato e di fatti siamo stati presi a calci in culo dal primo all'ultimo giorno e avevo ragione a dire che era una follia entrare nel governo con draghi con forza italia ancora la lega e tutte tutta la cumpa quindi un solo ci si salva col metodo contratto di governo firmato firmato sottoscritto e votazione degli iscritti questo rende la vita facilissima se non lo si fa ogni volta è un litigio ogni volta è un tire molla e ogni volta è tutto funzionale alla lotta di potere e andiamo a fanculo perché così moriamo tutti giorgio pedrazzi assurdi quelli che continuano a parlare di tradimento perché non guardano l'oggettività ma sono succubi nella narrazione mediatica denis da pieve e franco russo sarà contento quando mi dicono mi avete deluso non gli spiego più niente li mando ti adoro denis ma sai che anch'io si è avuto un'esperienza due settimane fa forse ve l'ho raccontata ma abbiate pazienza la memoria è quello che è ero il telefono con mio fratello e incrocio uno signore anziano un po' trasandato che inizia a inveire dicendo il tonno il tonno tu sei quello del tonno dove restituire i soldi quando l'ho guardato l'ho semplicemente mandato a fanculo e dato il coglione me ne sono andato non c'era possibilità basta stupidi fabrizio minoletti bravo bravissimo bravo denis il baffanculo è terapeutico esattamente sì ricordiamoci il video dei ragazzi due settimane fa e meloni meloni vaffanculo fantastico federico ceruti dove dobbiamo ritornare unici per attirare consensi specialmente dei non votanti è proprio così caro caro federico perché quando tu perdi lo stimolo emotivo perdi l'attaccamento perdi l'amore per un progetto il movimento cinque stelle quando non aveva neanche un centesimo in tasca prima ancora di entrare in parlamento era era intelligenza collettiva e amore per il progetto e amore per la comunità che questo progetto sosteneva maria cantaro o cantaro stasera sei in modalità incavolatissimo si capisce dagli improperi che metti nel discorso dai ci sta sì però maria cantero al fatto bene a dirmelo e rimprovermi anche un po di rimprovermi anche un po perché perché non è corretto magari avete il vostro nipotino e sento danilo che dice dice parolace quindi cerchiamo di essere cerchiamo di essere un po migliori rosa polone ogni tanto però mi devo dirle anche eppure le persone lodano il governo che ha le mani legate perché deve pagare i debiti fa donna santa fatti dei cinque stelle super bonus e reddito di cittadinanza purtroppo la propaganda farsa fabarezza tra i boccaloni rosa poloni hai detto parole sante un altro circoletto rosso ad un commento che è purtroppo verissimo e giustissimo e visto che hai parlato di super bonus ci sono dei fatti concreti delle analisi scientifiche delle analitiche fatte da un giornaletto che non considera nessuno sto scherzando ovviamente dal financial times quindi un rivista internazionale un giornale internazionale che ha fatto i conti in tasca ai paesi dal 21 al 23 dal 2021 al 2023 e ha messo l'italia sul podio e andando ad analizzare i dati economici e di investimento ha estrapolato tecnicamente e non è un'opinione ma è una constatazione obiettiva la motivazione del fatto che l'italia per tre anni consecutivi 21 22 23 sia stata la prima in europa per crescita economica e l'italia e la motivazione ci dice il financial times e non un grillino qualunque è lo stimolo all'edilizia soprattutto attraverso il super bonus leggete qua grazie al super bonus l'economia italiana è cresciuta di più rispetto agli altri paesi dell'unione europea lavori pubblici che è una rivista online informazione tecnica quindi di ingegneri architetti geometri eccetera eccetera il super bonus il financial times loda il microfono va sì loda gli effetti espansivi sul pile tra mistificazione della realtà i dati certi dopo quattro anni non si riesce ancora a mettere d'accordo i commentatori del super bonus una misura messa a punto eccetera 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 e questi sono i tecnici a dircelo e invece i politici quelli bravi professionisti con giornali giornalisti e tv hanno raccontato e ripetuto per anni che il super bonus era uno spreco di decino centinaia addirittura di miliardi che ha indebitato lo stato perché non era gratis senza dimenticarsi dimenticandosi di dire qual era l'indotto in termini di tasse qual era l'indotto in termini di emersione del nero che nell'edilizia c'è storicamente qual era l'indotto in termini di nuovi posti di lavoro non ci ha mai detto una minchia e ci ha detto solo quanto è costato ma ritorno economico è praticamente eh tale da aver coperto le spese dello stato ma non ce lo dicono e ci dicono ma amici cari mentre siamo in 204 collegati in diretta ci dicono che le case green la direttiva sulle case green vedete qua che io e ma abbiamo fatto qualche giorno fa uno short che sta girando molto su tik tok che legale le case green etime al santana eravamo preoccupati e bricconcello dove eri finito che la direttiva europea case green votata dal parlamento europeo che dovrà passare al consiglio sono una cosa folle e di fatti al parlamento europeo forza italia fratelli d'italia e lega i sovranisti che vogliono proprio bene gli italiani e alle piccole piccolissime imprese familiari italiane tra cui quelle edili e poi l'indotto degli elettricisti degli idraulici dei tappezzieri dei mobili mica mobili mentre petri axiu ci ricorda giustamente caro petirit che il governo poi nella persona dei ministri salvini compreso ha utilizzato il super bonus però fa schifo perché è dato a tutti mentre la politica professionista deve dare a pochi che poi alimentano i partiti e i politici economicamente e alimentano positivamente la loro reputazione attraverso gli organi di informazione e i loro soldati dell'informazione che vanno in tv a raccontare cazzate che allora buona vita ci sono in particolare due ministri i fratelli d'italia fotti e un altro bastard di cui non ricordo il nome che in ogni uscito intervista parlano del super bonus perché loro sono le sanno perfettamente il potere di suggestione di manipolazione che ha la comunicazione e ripetere mille volte una falsità sanno perfettamente hanno poche cose sanno solo questo di fatto però in paesi con un livello culturale sociale culturale così basso e di informazione così così di parte come l'italia fa breccia questa loro tecnica di manipolazione delle persone quindi ripetono mille volte una falsità ben consapevole il fatto che diventi una realtà alt sta di canna birrando vero a al santana ok ho capito al santana stava canna birrando al santana franco sono molto incasinato il mio lavoro non è normale che cosa fa santana non ricordo giulia monetillo forse la signora presidente non legge finanziata e non lo rilancia di sicuro eduardo poppi fanno propaganda per le prossime elezioni europee iniziata prima di natale del 23 è esattamente così eduardo poppi speriamo bene perché ragazzi miei qua non è così semplice tiziana zini cara ieri da vespa parlavano di super bonus senza un rappresentante di 5 stelle ho visto solo il promo e fatto bene a vedere solo il promo non non mettere la tua tacca di partecipante perché loro analizzano ovviamente hanno tutti i dati e perché ricordiamoci una cosa ragazzi questi questi programmi e questi giornalisti non metto aggettivi non faccio descrizioni ma tanto sapete cosa penso di vespa e di tanti come lui stanno in piedi perché c'è ancora gente che li guarda se non li guardarsi più nessuno con con tele meloni no li terrebbero in piedi anche a fondo perduto è la signora legge ma non comprende l l comprende come va a comprende come sono degli scienziati della comunicazione propagandistica Dario Semperboni insomma l'edilizia era all'omicina con il super bonus si è risollevata certamente doveva essere corretto ma da qui demonizzato ne corre anche qua Dario Semperboni da incorniciare il tuo commento perché per primo fraccaro che ha ideato il super bonus sapeva perfettamente che non poteva rimanere in vita 10 o 20 anni ma che poi doveva essere piano piano diminuire quindi il 110 diventava 90 90 75 poi 50 fino a scemare ma scemava quando se si era ottenuto uno straordinario impatto in termini di ristrutturazione delle case efficientamento sismico delle state delle case e efficientamento energetico esattamente quello che dice che cosa la direttiva case green dell'unione europea anche un certo Bonelli mi dice Fabrizio dice Fabrizio Donini stamattina ti vuoi sputtanare il super bonus mamma mia Bonelli tra l'altro ha quello dei verdi dei verdi che dovrebbe baciare per terra il super bonus ogni andare a baciare tutti i cantieri aperti al super bonus che è proprio eh anche un'impronta ecologica totale mamma mia ragazzi come politici di professione ha trent'anni che fanno politica sanno solo sperano solo di ottenere visibilità in televisione qualche voto in più per rinnovare il seggio questa è la politica schifosa del duemila e ventiquattro ce li sogniamo il duemila e tredici con l'ingresso dei cinque stelle in Parlamento che se la facevano tutti sotto il duemila e diciotto con l'ingresso al governo dei cinque stelle se la cagavano tutti sotto e sono i belli paciarotti sulle loro poltroncine ce ne sono inchiodati sono sulle poltrone tiziana zini ha visto l'intervento in Parlamento dire poco imbarazzante un certo leghista no cara tiziana non so di cosa parli forse parlava del super bonus può essere perché stiamo parlando del super bonus e qua il giornale riprende lo short che io e Emanuele abbiamo fatto un paio di giorni fa mi ricorda il super bonus virgolettato toninelli esulta per la direttiva sulle case green l'ex ministro accosta la normativa europea sulle case ecologiche al disastro del super bonus 110 ma tace sui costi dell'euro diktat e sui dissesti alle casse pubbliche provocate dalla norma grillina va bene grazie a Marco Leardi grazie infinito ottimo giornalista Angelo Natale salve a tutti sono un po' in ritardo ma ci sono Angelo Natale e noi siamo molto felici di averti insieme agli altri 220 collegati in diretta ma per parlare in maniera sommaria perché io la direttiva non l'ho letta perché come voi lavoro dalla mattina alla sera delle case green comunque sia la cosa cosa contiene queste case green contiene incentivi per l'efficientamento sismico e energetico soprattutto delle case private ma soprattutto parte dagli edifici pubblici amici cari e dice alla meloni e dovrebbero lavorare ma non ne sono capaci di lavorare in maniera concreta dovrebbero lavorare in fabbrica due o tre anni e tornare ma no è congelare questa situazione mandare a lavorare in fabbrica o nei campi e poi far ritornare al governo quindi capirebbero che significa lavorare che non significa andare in televisione e parlare di fronte una telecamera con in mano un microfono ma lavorare sudare faticare litigare farsi male tutte queste robe qua comunque impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici quanto ci metteremo ad ammortizzare la spesa e poi iniziare a guadagnare a non inquinare a utilizzare quell'elettricità anche per le magari le auto blu che usano i signori ministri sottosegretari ed onorevoli no che come quando io ho fatto il ministro avevo la macchinetta che mi portava in giro non era più quella della polizia ho chiesto ed ero obbligato voi sapete che la scorta me la sono fatta levare subito dopo essere uscito dal ministro a differenza di tutti gli altri la macchinina me la sono fatta dare ed era elettrica la più sfigata di tutte ovviamente ho preso perché sono io e i ragazzi bravissimi poliziotti che mi seguivano andavano su un'auto elettrica e se tu metti l'impianto sul tetto del ministero me la potevo caricare a gratis e quindi non gravavo sulle casse dello stato al contrario di questo quello che dice il bravissimo e onorevolissimo marco leardi giornalista che ha scritto l'articolo sul sottoscritto e la seconda cosa ancora più bella e facile per la meloni che non farà mai tagliare dice la direttiva green delle case green europea di smetterla di finanziare di incentivare le caldaie vecchie quelle che utilizzano fonti fossili le caldaie a metano mentre oggi le vengono ancora incentivate mamma mia quanto è brutta questa direttiva che distrugge le casse dallo stato ragazzi quanto è brutta teodora buona vita a caso ho cambiato il piano cottura da gas e induzione ma non vedo l'ora di abbandonare completamente il gas e fai molto bene cara cara teodora è proprio questo l'obiettivo e questo dovrebbero finanziare anna maria toci anche prodi da formigli ieri sera criticava il super bonus alla domanda non ci sono soldi prodi risponde ma con tutti i soldi dati si poteva fare di più col governo melone prodi è sempre ricordiamoci sempre il commento di come giudicava il nostro beppe grillo giudicava prodi e credetemi che quei giudizi che lui dava che poi in chiave ironica etichettava valevano i vent'anni fa 15 anni fa come oggi e non credete che sia cambiato qualche cosa non è proprio cambiato niente ragazzi siamo a 37 38 minuti collegati in diretta e abbiamo ancora un argomento molto molto importante e poi chiudiamo con un paio di chicche così per chiudere il venerdì con un certo animo disteso che parlamentare europeo parlamentare europeo non so che cosa significa caro mio bravissimo bravo emanuele caro grande scusate ragazzi dimenticanza mia il livello del centrodestra anche se questo della lega ma questo è il livello del centrodestra che ha votato compatto contro una norma straordinariamente importante positiva efficace ecologista direttiva casi green il livello del centrodestra è riassunto e adesso ti leggo domenica massaro da questo signore di cui non voglio ripetere il nome per fare pubblicità sul nostro canale di controinformazione che interviene al parlamento europeo durante la votazione della direttiva casi green vai grande ma siamo in mano a questi qua siamo in mano a questi qua quando eravamo più giovani e pensavamo che livello più basso fosse quello toccato con berlusconi che era bassissimo per l'amore del cielo e poi dopo guardiamo oggi berlusconi ci faceva fare figure di merda apocalittica a livello mondiale con i suoi bunga bunga le corna durante le fotografie con i leader europei e cose di questo tipo però secondo me il livello peggiore adesso dal punto di vista generale dal punto di vista politico dal punto di vista di un'informazione l'ordine di informazione ha serviti totalmente alla meloni e ai governisti è peggio oggi è il livello di oggi è peggio lc duplex ma solo a sfondo calcistico riesce ad esprimersi il politico di destra fatto di proposito per il loro elettorato è un commento intelligente lc duplex sono ragazzi sono ragazzi mamma mia che livelli ragazzi come dice pubbol ecco la calciocrazia non so chi sia pubbol ma la calciocrazia non l'avevo mai sentita dire loretta citarei sono una signora ma volentieri gli direi dove mettersi il fischietto brava loretta bravissima loretta citarei ti adoro così si fa fabrizio donini ma non è mica pirla il pirla delle scarpate su un documento della commissione europea si è ricordato bene fabrizio donini bravissimo è livello di oggi non pensate che sia livello solo di sto soggetto livello di oggi a rosa poloni io ho fatto 110 la mia app energia dice che a marzo 24 sto consumando il 70 per cento in meno rispetto a marzo 23 grazie rosa ed è così per tantissimi e quando incontro le persone che hanno fatto ristrutturato la casa con il super bonus quindi isolato i muri quindi un clima più corretto dentro d'estate d'inverno e ha messo gli impianti fotovoltaici magari anche rifatto i tetti così via e mi fanno vedere l'app del consumo energetico e mi dicono oggi non ho speso niente o oggi ho non ho speso niente e ho accantonato un po di energia per domani con le mie batterie o mi sono ricaricato l'auto elettrica a gratis perché ho il fotovoltaico è da pelle d'oca e sai che mi han detto che entravano in un loop mentale per cui è talmente da un talmente un feedback positivo un'emozione positiva il guardare quanta energia quindi oggi c'è il sole uno si sveglia e guarda l'app sa che oggi produrrà tanta energia grazie al sole sui pannelli messi gratis da quei cattivoni incapacioni dei grillini e continuano a guardare e ti dà un senso di felicità quasi una dipendenza da quella roba lì è bellissimo come cosa domenica massaro ieri ho attivato il fotovoltaico io super bonus grandissima tiziano continui io ho rivoluzionato tutto circa due anni fa impianto fotovoltaico con accumulo piano cottura induzione scaldabagno elettrico auto elettrica non sono più ricattabile ti adoro tiziano io non ce l'ho ancora fatta tutto questo non ce l'ho ancora purtroppo fatta dora coniglio mia zia con il super bonus non paga più le bollette e nel paga a mia zia e mia zia le manda mille euro ogni quattro cinque mesi è stato un vero disastro toglierlo e ti capisco ti capisco cara dora coniglio esattamente così detto questo amici cari un passaggio veloce sulla situazione in ucraina è doveroso perché non possiamo non farlo scusatemi per questo so che venerdì siamo tutti stanchi finalmente si avvicina a fine settimana possiamo un po' rilassarci per chi può la mia testa non si rilassa mai ma questo l'avete capito a che sia a che punto siamo con la guerra in ucraina perché la notizia che deve che dovrebbe passare di più costantemente è che si stanno facendo passi avanti da gigante verso un vero rischio atomico un vero rischio di bombardamenti con armi atomiche da parte del della russia sull'ucraina perché si sta facendo pressione a livello europeo e adesso leggo subito l'articolo per dare a zelensky e dall'esercito ucraino delle armi a lunga città tarmi molto potenti ed impattanti armi che potrebbero far rischiare di che l'ucraina che l'esercito ucraino bombardi il territorio russo in territorio russo e per le regole di ingaggio che i vari giornalisti o fintitali o tecnici o fintitali che vanno in tv ad ammorbarci di cazzate e di falsità non sanno ma gli analisti scientifici sanno è che questa cosa i bombardamenti fatti con questi eventuali con armi della nato in questo caso sarebbero tedesche e grazie a dio che olaf schultz ha bocciato questa richiesta che invece vorrebbe portare avanti ad esempio un macron che dice andiamo avanti e non escludiamo l'idea di militari nato dei paesi nato a combattere in ucraina comunque sia gli analisti scientifici dicono che se dovesse capitare questo cioè non arrivano come vorrebbe macron i soldati nato americani francesi britannici italiani chi più in ha più ne metta a combattere contro l'esercito russo in ucraina che significerebbe anche lì scoppiare la guerra mondiale ma dare armi della nato all'ucraina ed erano armi che doveva dare la germania significa per certo ce lo dicono gli analisti scientifici che putin risponderebbe putin un criminale non sottointendetemi che io sono putiniano ovviamente no bombarderebbe con armi nucleari l'ucraina che significa terza guerra certa mondiale unione europea i 27 trovano l'accordo su gli aiuti militari a chi previsti 5 miliardi per il 2024 qual è la risposta di putin dopo anche l'ingresso nella nato della finlandia schiera schiereremo forze al confine con la finlandia quindi la situazione c'è pressione per dare armi potentissime a lungo raggio a zeleschi terza guerra mondiale c'è pressione per portare i militari nato in ucraina terza guerra mondiale con la finlandia che sia con la nato che si avvicina anche da quella parte lì alla russia putin dice schiereremo forze al confine con la finlandia ragazzi si dovrebbe parlare solo di questo è io parlerei in un paese normale si dovrebbe parlare solo di questo e dei prezzi folli del genere alimentari di largo consumo dei prezzi folli della benzina del gasolio dei prezzi folli di qualsiasi cosa che serve per vivere non del macchinone da centomila euro e quello se lo compra riccone tendenzialmente molto spesso evasore delusore delle tasse o furbacchione ma ma di queste cose qua costo della vita folle carrello della spesa insostenibile edizio terza guerra mondiale mentre si parla di puttanate si parla della ferragni di fedez si parla un'altra notizia incredibile della foto ritoccata della principessa britannica come si chiama non mi ricordo la foto truccata ma voi vi rendete conto che hanno creato un gate gate come si chiama quella lì perché ha truccato una fotografia di famiglia ma siamo tutti sono non siamo sono tutti impazziti gianclaudio brufo qui in germania non vogliono mandare più le armi per fortuna per fortuna ugo zora e sti francesi idioti che vogliono andare in guerra voi cosa ne pensate hai usato l'aggettivo giusto caro ugo non penso non penso che siano tutti francesi ugo penso che siano la dirigenza politica francese guardate qua russia macrona al vertice con sciolze prepariamoci alla guerra ma preparati tu alla guerra non ci rompa di coglione ma stai scherzando lc duplex armiamo armiamoci partite tanto a morire il popolo non gli eletti ovvio loro hanno dei bunker incredibili loro non sono gli ultimi a morire cazzo io ne frega se muoiono i ragazzi le ragazze del loro del loro paese loretta citarei i russi avanzano i russi avanzano due chilometri al giorno gli ucraini hanno finito gli uomini e le munizioni e tempo di pace mancherò andassero in prima fila esatto come una volta no come le povere di una volta che il generale grande capo andava a lui quando non c'erano le armi ma se andava a cavallo con la scimitar non so che cazzo di altra cosa andassero loro in prima linea dario semperboni a che punto siamo danilo ho paura che siamo vicino a un punto di non ritorno non intravedo proposte percorribili guardate qualcosa ci fa vedere manuele questo è sconcertante questo fa paura ci sono proprio in germania richieste di ristrutturazione e di costruzione di nuovi rifugi anti atomici bruno marzullo se facessero referendum questi qua il referendum oramai la democrazia è morta in italia tanto quanto in francia se facessero referendum per capire se gli italiani vogliono la guerra avremmo una percentuale di votanti altissima essi hai detto una cosa intelligente bruno marzullo il movimento cinque stelle dovrebbe proporre un referendum ovviamente a guerra si guerra no non ci sono ancora le condizioni si stanno facendo dei disastrosi e folli scellerati passi da gigante vedrai che il centrodestra dirà di mandare i migranti in guerra in ucraina ci dice matteo grazie matteo per la tua donazione da 5 euro grazie di cuore è una roba allucinante giulia monetilio ci vogliono più psichiatri hai fatto detto bene giulia cara non psicologia psichiatri mio dio perché stai abbandonando questi popoli esatto esatto una delle cose poche deve scendere ancora e andare a farsi crocifissere in nome della crocifiggere della follia dell'essere umano guardate qua leggo un attimo costruite nuovi rifugi antiaereo un sistema di serene d'allarme ci sono pericoli di guerra la richiesta dei comuni tedeschi cioè tipo lanci tedesca allo stato ragazzi referendum europeo ragazzi avete oggi una intelligenza straordinaria questo si chiama intelligenza collettiva intelligenza sociale che è sempre più morente in italia e anche in europa un referendum europeo bellissimo sarebbe un referendum europeo andassero a fanculo i leader occidentali di governo che invece ci stanno portando alla guerra giulia monetillo ma a noi cosa ce ne frega della foto ritoccata brava giulia invece se tu guardi è su tutti i giornali le prime pagine di giornali perché ha ritoccato bruna ci dice tiziana zini però continuiamo a votare quelli che la guerra la sostengono eh lo so continuano scusa continuano 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 loro essi non prima persona plurale ho sletto male gianni manghierini allora fanno una sfida macrona e putine e si finì e così finisce la guerra esatto come volevano farla zackenberg e musk no che andare sul ring e fare mma o ufc quella lotta mani nude la rissa mani nude andassero loro sul ring di mma no spaccassero si spaccassero la faccia e non ci rompessero tanto le scatole meloni ripristina 110 per i rifugi e bunker da guerra o ragazzi stasera avete veramente un'inventiva e una intelligenza fantastica non escludere questa cosa potrebbe usare gli incentivi da meloni per la costruzione di bunker antiatomici giù gianclaudio brufo 68 qui nel baden budenberg non si parla di bunker per fortuna ragazzi allora non so dove si parla in che zone però ragazzi miei quella situazione veramente devastante devastante però si parla di cazzate si parla del tono di toninelli si parla della ferragna di fedez e non so di che altre minchiate di fumo negli occhi si parla in questo paese che solo fumo negli occhi è una roba incredibile lc duplex oggi mi ha dato due volte il titolo di mi hai dato poi mi monto la testa vai piano che ti devo dire se dici cose intelligenti non devo essere non devo nascondermi domenica massaro noi dobbiamo smettere di fare la guerra per gli stati uniti brava per gli stati uniti per gli interessi degli stati uniti l'europa in crisi economica per colpa della guerra altro circoletto rosso di commento esattamente così e non sono opinioni che invece in questo paese chi le dice viene definito putiniano sono costatazioni di fatto di fatto ma io non lo so perché nessuno protesti dove sono i pensionati noi sono i pensi quelli che votano se va bene votano pd se va male votano lega forza italia e fratelli italia ma cazzo ma andate a fare la spesa pensionati tendenzialmente le cose vanno a fare la spesa anche quasi tutti i giorni ma vi rendete conto ma vi va bene mangiare solo la pasta in bianco o riso bianco io non lo so mi pare normale pagare una latta del 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 olio 20 euro e manco è dop non lo so da me ci sono delle buche che potrebbero fungere da buca al santana ti adoro ti adoro cazzo colpa della raggi colpa della raggi colpa della raggi andiamo a vedere le ultime due chicche meravigliose va deve una delle giornaliste più blasonate anche questa in maniera totalmente immeritata che abbiamo in Italia mamma mia se guardassimo la simpatia una così farebbe vincere gente come Berlusconi a mani basse elezione europea questa signora qua aveva detto che non si sarebbe mai candidata come è brutto ma come brutto per la democrazia vedere una persona come lei che ha avuto un incredibile potere di divulgazione dell'informazione quindi un incredibile potere di incidere sulla qualità della democrazia candidarsi con un partito cioè è come se tutte le parole fossero tutte puttanate fossero tutte poti candidi di parte aveva detto che non avrebbe mai fatto e luci annunziata candidatura capolista capolista ovviamente col posto blindatone così non fa neanche la campagna elettorale nella circoscrizione sud annunziata vomito Tiziano Contini mamma mia ragazzi non posso capacitarmi di come siamo caduti così in basso ma adesso raggiungiamo franco russo raggiungiamo il livello più alto di tutti ragazzi perché dobbiamo darla è la nostra amatissima estimatissima presidenta del consiglio che è una donna concreta che affronta in maniera proprio concreta entra dentro nei dossier importanti come quello della sanità e vedete come stanno rilanciando la sanità entra dentro in maniera concreta nel problema della povertà e vedete come sta smantellando la povertà nel problema del clima e dell'inquinamento e entra dentro per combattere l'inquinamento atmosferico e l'aumento del del clima proprio è una concreta che affronta gli argomenti più importanti e di fatti il mettilo e leggo lc duplex io ha chiesto il popolo ha chiesto il popolo a gran voce lucia vai ma lei ha franteso la richiesta fantastico mettete l'ultima slide poi ci salutiamo che è meraviglioso eccola qua la concretona proprio quella che dà poca importanza alle parole ma dà solo importanza ai fatti perché per lei la propaganda è da prendere cestinare tritacarte nel cesto tira l'acqua tutto quanto è non dirò mai che le tasse sono bellissime ma che frasona che frasona è andata sulle prime pagine che frasona pelle d'oca è una frase così ci cambia la vita perché lei non è come padua schioppa che purtroppo anche morto che aveva detto le tasse sono bellissime poi aveva circostanziato perché era un tecnico padua schioppa ovviamente l'hanno massacrato ma rimasse e però aveva circostanziato del perché perché poi parlava dei servizi che tornavano del del fatto che poi gli asili erano gratis le scuole erano gratis non so voi ma io all'asilo pagavo centinaia di euro al mese alle scuole elementari centinaia di euro al mese non so voi pagavo i libri e poi sempre ha pagato tutto quindi col calzo che tutto quindi insomma padua schioppa circostanziava questa frase e lei quindi in maniera concreta e vitale come ben sappiamo noi grillini non dirò mai che le tasse sono bellissime fantastico lei vorrebbe smantellare i poveri valere mascaretti e si potrebbe così potrebbe avere l'idea di prendere i poveri e mettere su un'isola in anno arancio pane acqua e sti casi state di diario di una statista santana dici bene cazzo non dirò mai che le tasse sono bellissime lo stato amico non viene raggirato questa nostra scommessa sono bellissime le libere donazioni domenica massaro signori le tasse sono bellissime perché nessuno in italia debba chiedersi quanto costa un pacemaker uno stand hai ragione domenica massaro hai ragione perché il senso delle parole di padua schioppa era esattamente questo perché se tutti pagassimo le tasse innanzitutto sarebbero molto più basse e soprattutto se hai bisogno di un intervento di inserire un messo di pacemaker lo fai gratis e lo fai domani non dopo due anni che intanto sei crepato sei volte meloni le tasse dovrebbe essere un'offerta libera tiziana zini e ragazzi miei non so così infiniti x 2 euro senza sconto cessione solo lavori in nero no green è esattamente così è esattamente così però tutto a posto tornano i lavori neri e quindi fatti di merda senza certificazioni le tasse non rientrano l'ivano viene pagata ci sono lavoratori in nero perché se metti gli incentivi l'impresa non solo deve fatturare ma deve anche garantire che i lavoratori siano assunti quindi si crea un impatto e si è creato un impatto straordinario per cui finanza al times ha detto l'italia prima in europa per tre anni grazie al super bonus ma questi dicono il contrario e la gente gli ha creduto questo è una fine volevo finire in maniera un po' più così rilassata ma ragazzi miei non è neanche così facile 58 minuti ce l'abbiamo fatta spero che la puntata vi sia piaciuta grazie di cuore per aver partecipato grazie infinite per aver donato comunque adesso tiziano continui mi sconvolgo con una bomba con una bomba questo lo rimanderà libero quotidiana bomba significa canna eh devo fare un attacco chiamato il cup la farò il ventuno marzo cioè tra sei giorni che inizia a sentirsi l'effetto di alessandra todde oh mamma mia però questa è una bella notizia speriamo bene detto questo ragazzi voglio bene auguri tiziano auguri tiziano auguri tiziano auguri tiziano auguri tiziano scusate ragazzi buon fine settimana a tutti vi voglio bene grazie di cuore